Gira la ruota, girala, perché l'Europa o si mette insieme o non conterà niente. Ascolta, Matteo, ma non potete domandarmi il futuro dell'economia globale? Non lasciate il futuro ai cinici e ai delusi. Però posso dire una cosa tra di noi, tanto non ci sente nessuno. Benvenuti a Politi Game, quando la politica diventa un gioco da ragazzi. Il format che vuole mettere in grande difficoltà attraverso il gioco i leader politici per metterli a confronto con le nuove generazioni. Sì, perché l'8-9 giugno ci saranno appunto le elezioni europee, che sono le elezioni molto importanti. Quindi abbiamo invitato qui da noi a Suono.net i sei principali leader e i sei principali partiti per rispondere alle domande dei giovani, dei ragazzi. Gianluca, oggi chi interroghiamo? Apri il tuo registro? Fammi apri il tuo registro, scusami. Ormai questo registro sta diventando affollato, lo dovremmo cambiare. Eh, guarda, un bel po' di interrogazioni ci sono già state. Vediamo chi non ha ancora il voto, chi non ha ancora il voto. Andiamo giù, chi vediamo se mai. Renzi Matteo, eccolo qua. Presente? È presente. E non mi giustifico. Vieni interrogato, non si giustifica? Non mi giustifico. Allora si firma. Allora, dove c'è Renzi Matteo, non dove c'è Matteo Salvini. Mi raccomando, non condiamo in Matteo. Non ti sbagliare. Questo, voglio dire, si vede bene che la firma è diversa. Egli Schlein è già venuto, Tattagliani, Conte. Vi manca la Meloni, eh? Manca, prossimi giorni, Meloni e Salvini, gli ultimi due interrogati. Gli ultimi due interrogati. Speriamo di chiudere le interrogazioni in tempo utile per le verifiche finali. Vediamo che nessuno vada a settembre, questa è la cosa potente. Eh, quello sicuramente. Matteo, grazie per essere tornato. Grazie a voi. Quando eri venuto la prima volta, insomma, eri segretario del PD, adesso fai un altro mestiere, poi ce lo racconti. Adesso faccio il candidato per la lista Stati Uniti d'Europa. È una figata pazzesca, perché è una cosa che i ragazzi dovrebbe interessare di più. È il sogno del futuro. L'altra volta quando venni c'era stata la buona scuola. E molti dei prof, più che dei ragazzi, erano un po' arrabbiati. I ragazzi con il 18-up anche erano magari contenti. La 18-up, anche quella è una cosa che funziona bene. Ce l'hanno copiata i francesi. Macron con il Pasquille Tour, ha voluto cambiare il nome. Ce l'hanno copiata i tedeschi. E la Meloni invece l'ha un po' modificata. Gli ha tolto nel primo anno, ha portato a zero l'investimento. Infatti Giorgia, ma perché? 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 Dice, no ma ci ho messo dei limiti di reddito. No, no, ha fatto proprio... Poi glielo chiederemo. Ringraziamo BinarioF, che appunto è l'hub delle competenze digitali appunto di Meta, che ci supporta in questa iniziativa. Eh sì, perché serve sempre un supporter, ma cominciamo con il primo Giorgio. Giorgio. Vai. Una specie di speed date, quindi un po' di domande a bruciate pelo, risposta è la prima che ti viene, sincera e sintetica. Vai. Che studente sei stato? Mezzo e mezzo. Nel senso che sono uscito bene dal liceo, però sono stato anche lì, ho fatto 60 sessantesimi, ma sono stato rimandato a scienze. Una sfiga pazzesca, è il classico, l'unico che si fa rimandare a scienze, al classico. Cioè l'educazione fisica, c'è il peggio. Beh, ora farsi rimandare l'educazione fisica. Ha rischiato l'ischlein, ha detto che ha rischiato l'ischlein in l'educazione fisica, perché era la materia un po' meno brava. No, Ellie mi sembra una secchiona. Come era secchiona? E appunto l'educazione fisica era un po' più difficile. Però l'educazione fisica non riusciva. Senti, la tua materia Nemesi, quella proprio... Vabbè, quella la peggio di tutte è scienze, perché uno che si fa rimandare al liceo classico nel quarto anno, quella che allora era la seconda al liceo classico, è incredibile. Cioè come si è fatto? Penso di essere stato l'unico. Ma lì feci qualche erroraccio io. Preferite invece, materia preferita? Storia. Storia. Storia oggi, che ho una certa età, avrei voluto studiare meglio il greco. Era il Presidente dell'Istituto, l'hai fatto? Sì, due anni. Seconda e terza liceo, cioè quarto e quinto anno. Prima volta sono passato normale, nel senso che ero in una lista, passato prima della mia lista, ma un mio compagno di scuola più grande di me aveva fatto cappotto, aveva vinto tutti i seggi, poi è stato consigliere comunale con me. Quando ero sindaco era mio consigliere comunale, che si chiama Leonardo Bieber, ciao Leo. E poi l'anno dopo invece abbiamo vinto, noi avevamo la lista, non ci crederete, di centro, contro la lista di sinistra estrema e contro la lista di destra estrema. E lì vincemmo e io fui il più votato. La colonna sonora della tua maturità? Eh, grandissimo album degli 883 in quell'anno, il 93. Dimmi come mai? O poi ancora ancora c'era, non la sudo testa. Ma perché sei andata via? Mi son perso nella notte. Vabbè, notte prima degli esami era un... Però non era di quell'anno, ho fatto 40 anni quest'anno. Ma la tua maturità, insomma, se l'ascoltavano. Vabbè, lì era una cosa che tutti dovevano, la notte prima degli esami, ascoltare. Vabbè, non tutti quelli che sono passati... Notte prima degli esami. Non tutti quelli che sono passati qui possono dire di aver ascoltato la notte prima degli esami alla maturità, eh. Perché, fammi capire... Eh, 30 anni e forse a livello di età non c'è, perché aveva già 25-30 anni. È vero, sì. Questa ce l'ho di dire. Una cosa che nessuno sa di te fino ad oggi. C'è una cosa che non è... Sulla scuola? Su qualsiasi cosa. Su qualsiasi cosa. Proprio l'anno in cui sono stato rimandato, seppi prima dello scrutinio che ero stato rimandato. Cioè, durante lo scrutinio fu informato in diretta. E cosa? Ero molto amico del prof di religione. Ah, e che quindi... Che aveva già i primi cellulari e che chiamai per dirgli Paolo, ci vediamo, ma io ero convinto che non mi rimandassero, perché ero convinto che insomma la media era 5,9, quindi pensavo... E lì lui fece un mezzo reatino, no, reato no, però insomma... Il primo traffico di influenza. Traffico di influenza, beh, non... Poca influenza perché... Sì, che chiamai dicendo, senti, a proposito Matteo, Matteo, ti vuol dire che ti hanno rimandato. Così, doccia fredda. Sì, anche perché io risposi al sacerdote in modo... Don Paolo, che ora è lassù, perché purtroppo ho mancato. E quindi sì, il mio rinvio a settembre l'ho saputo in alte prime, è dovuto anche far finta di niente, quando il giorno dopo sono usciti i tabelloni tutti i miei compagni, oh, te lo rimandavo io. No, non lo usava. Giramento di scatole. Senti, ma come stacchi la spina? Ho fatto la maratona lo scorso anno, 3,58, molto contento. Quindi la corsa sì. 3,58 totale o il passo? No, 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 no. Ehi là, che cacchio. Che miseria. 3,58 vuol dire fare la maratona... Sarebbe sì stato un fenomeno. No, vuol dire fare la maratona semiprofessionista. Il passo è 5,38. Allora, cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo di quanto ci metti a fare 42 chilometri e 195 metri. Lui fa lo splendido. Ha mai fatto la maratona? Eh, ma allora. C'è ben in giro me, ma l'ha fatta in motorino. No, no, ma io ti ho chiesto se era il passo o la... Il passo è quanto ci metti a chilometro. E nel mio caso io ho fatto 42 chilometri in 3 ore e 58 minuti. 5,30 al chilometro. 5,38. Quindi è buono. Io non ne mi intendo. Non lo so. Però è bello. Questa è la maratona della cosa... No, su 3,58 c'erresti sorpreso proprio. Mi piace da impazzire leggere. Mi sveglio molto presto e questo mi consente di mettere in moto un po' di idee. E poi per staccare, vabbè, la cosa migliore è quando hai gli amici veri o quando sei con i figli, con la famiglia, con la moglie. Quello è il modo di staccare vero. Questo è il tuo simbolo per le elezioni europee. Dove sei candidato. In ultima posizione, vero? Sì, anche se con le preferenze... E infatti non... Non cambia niente. Però questo è l'unico simbolo che ha un'idea politica. Spiegacelo. Beh, se vedi, c'è scritto Stati Uniti d'Europa, no? Vai, te lo lasciamo a me. Stati Uniti d'Europa. Gli altri scrivono Meloni, scrivono Salvini, Tagliani voleva scrivere Tagliani ma ha messo Berlusconi e è andato sulla tranquillità più... Noi non abbiamo messo un cognome, abbiamo messo Stati Uniti d'Europa. Cosa vuol dire? L'idea di un grande investimento nel futuro del mondo. Cioè, secondo me, gli Stati Uniti d'Europa sono l'unica salvezza per i ragazzi più giovani. Perché l'Europa o si mette insieme o non conterà niente. Non conterà una mazza. E allora, siccome c'è un tema oggettivo di perdita di ruolo e di potere dell'Europa nel mondo, dire Stati Uniti d'Europa significa esprimere un concetto bellissimo, un sogno, un ideale. Gli altri mettono un cognome, noi mettiamo un sogno. Un po' mazziniano, la giovane Europa. È mazziniano. Se vuoi, uno dei più grandi pensatori che ha lavorato, dei grandi statisti, non pensatori, è Winston Churchill. Ma nel nostro programma, il nostro programma si apre con il richiamo a Mario Draghi, che è il nostro riferimento, con un concetto, secondo me, molto giusto, che è chi si candida deve andare davvero in Europa. Perché se ti candidi per finta, sei un truffatore. ma poi c'è anche una bellissima frase di Luigi Einaudi che sostanzialmente fa riferimento al fatto che senza gli Stati Uniti d'Europa noi finiremo come le città italiane, lo dico a chi ama la storia, che tra il 1400 e il 1500 non mettendosi assieme hanno perso poi sovranità. Cioè, sono arrivati gli Asburgo, sono arrivati i francesi, sono arrivati gli spagnoli, gli inglesi a dominarci. Quindi è soprattutto su uno scenario globale diciamo tra Stati Uniti, Cina, Russia, Arabia anche che ovviamente sta in Africa. Quello è tutto molto interessante e Einaudi dice, e questo è il parallelismo, come nel 1400-1500. Queste città non mettendosi insieme hanno perso sovranità per tre anni, così noi se non ci metteremo insieme con la Francia, la Germania, la Spagna andremo nei prossimi tre secoli a perdere rilevanza, potere e sovranità da chi? Dalla Cina, i paesi arabi, dall'America, dalla Russia. A proposito di mettere insieme, cioè nel senso ci sono tanti partiti, diversi partiti. Diverse storie, anche molto diverse, per esempio io con Emma Bonino c'è una storia molto diversa con i Lib Demi socialisti radicali, l'Italia al centro, però la cosa che ci unisce è Stati Uniti d'Europa, cioè ragazzi, se volete votare un cognome avete Meloni, avete Schlein, non gliel'hanno fatto mettere il cognome, avete Tajani, avete Salvini, se volete un progetto politico che dà il senso del futuro di Stati Uniti d'Europa. Ecco, dove si mette? Se mettiamo che questa è la sinistra, questo è il centro e questa è la destra, metti il centro. Tu sei al centro. Io al centro, assolutamente. Non ho capito che sto a fa qui, ma va bene. Non so, abbiamo fatto un emiciclo più piccolo, non so perché, quindi qua diciamo, dove sono io più o meno, quindi pieno centro siamo. Bene, allora è arrivato il momento di passare al prossimo gioco, il falla semplice. Viglia di ragazzi ci hanno proposto delle loro domande sull'Europa, ti può dire bene una domanda semplice, ti può dire malissimo, una domanda difficilissima, e sono 30 secondi per rispondere. 30 secondi basta? Quindi tu leggi la domanda, appena sei pronto facciamo partire i 30 secondi. Io c'ho un problema di occhi, perché a una certa età no no no, l'altro giorno ero così, c'era un grillino perché sotto di me ci sono i grillini che mi ha fatto se vuoi ti aiuto perché non leggevo, io stavo la prima volta che un grillino ha cercato di aiutarmi. Allora, la domanda è l'Europa dovrebbe avere più poteri sui singoli stati o va bene come stiamo ora? Sei pronto? Dimmi quando vuoi facciamo partire. 30 secondi. Vai. Non va bene come stiamo ora, ma non è che l'Europa deve avere più potere sui singoli stati, l'Europa deve avere più potere nel mondo, perché l'Europa non è contro l'Italia, l'Europa è l'alternativa alla Cina, alla Russia, ai paesi arabi, ai paesi americani. Dunque, la scommessa è elezione diretta del Presidente della Commissione, superamento del diritto di vieto e Stati Uniti di Europa come grande comunità internazionale in cui l'Europa conta di più e quindi anche l'Italia conta di più. Eccezionale. Pelo pelo. Secondo perfetto, al secondo. Vediamo la seconda domanda. Quante domande si devono? Due. E quindi poi due al leader. Quelle che lasciano le lascia alla Meloni? Eh sì, esatto, perché poi ogni volta il leader lo togliamo con la domanda. Zach, come funzionano le elezioni europee? Pronti? Via! Si vota con il sistema proporzionale, cioè avrete una scheda, dovrete barrare il simbolo, possibilmente possibilmente barrate questo se avete dei dubbi e ci avete tre preferenze, dovete dare per forza tre preferenze? No, potete darne una, due o tre, se ne date tre, due uomini una donna, due donne un uomo, potete anche non dare preferenze, se avete capito come funziona l'elezione europea, brave, chi non l'ha capito sono Meloni, Tajani e Schlein perché si candidano senza poi andare davvero in Europa però questo qui rimettiamolo dentro così magari la Meloni le prova a rispondere, vediamo se lo capisce va bene in quanto, in virtù dell'autorità che hai avuto come premier no, adesso posso dire anche Conte è stato premier, la Meloni è premier, Salvini non lo sarà mai Tajani vuol fare il presidente della Repubblica o il re, sicché va bene diciamo abbiamo così tante instabilità in Italia che ormai abbiamo più premier che di giornalisti, però posso dire una cosa tra di noi, intanto non ci sente nessuno, io faccio queste conferenze all'estero, tutti mi fanno polemiche, ma è una cosa che fanno tutti gli ex primi ministri, il concetto qual è, quando vado all'estero e mi dicono former prime minister of Italy è molto divertente perché tutti fanno la battuta sull'instabilità italiana che cambia un premier io ho fatto tre anni, la Meloni due anni Conte tre anni con due governi quindi insomma comunque poco tempo rispetto agli altri ma comunque però ti posso garantire, i ministri di istruzione durano meno come no, però va bene la cosa divertente è che a un certo punto gli inglesi mi prendevano in giro sempre mi prendevano in giro sempre c'è stato un momento in cui la loro premier è durata 44 giorni eh sì, lo ricordiamo la verità è che come si sono chetati gli inglesi hanno smesso di prenderci in giro dura meno un premier in Inghilterra che un gatto in tangenziale questo è a proposito di vecchi film anche questa è soddisfazione di prendere in giro gli inglesi a proposito di vecchie cose e ricordi andiamo indietro però non mi ricordo se tu hai partecipato a questo gioco dimmi se è da gioco la ruota della fortuna eh sì il 26 maggio Mike Buongiorno avrebbe compiuto 100 anni 100 anni e quindi siccome Mike è nel cuore di chi come me ha partecipato alla ruota della fortuna e di tanti italiani e di tanti italiani io ero con Mike Buongiorno c'era Paola Barale allora a fare la balletta io sono stato a fare la ruota della fortuna l'anno dopo la maturità nel 94 quindi dopo esattamente 20 anni no 30 anni 94 ruota della fortuna a scuola.net è la mia carriera ho fatto la maturità poi ho fatto l'upgrading e sono diventato partecipante alla ruota della fortuna poi l'upgrading ho fatto presidente di consiglio e poi finalmente scuola.net si ritorna a fare la ruota della fortuna allora abbiamo diversi temi e vuoi raccontare tu Dani? migliaia di ragazzi ci hanno dato le loro priorità sull'Unione Europea chiaramente sono le top 5 quindi abbiamo scuso le altre 5 a te parlare di questi temi gira la ruota gira la vai vediamo cosa dire anche la musica nessuno l'ha fatto perché io l'ho fatto la cosa difesa dell'ambiente difesa dell'ambiente è un principio giustissimo sacrosanto l'Unione Europea sta esagerando nell'ideologismo mi spiego Ursula von der Leyen che è la presidente della Commissione Europea e Franz Timmermans lei è tedesca lui è olandese ed è stato il suo primo vicepresidente il suo braccio destro hanno fatto un grande documento che si chiama Green Deal questo Green Deal presentato nel dicembre 2019 è leggermente esagerato levate pure il leggermente che cosa comporta? che è giusto dire io voglio difendere l'ambiente ma non salverà il pianeta con l'ideologia lo salvi con la tecnologia con l'innovazione con il nucleare di nuova generazione con tutto ciò che va nella direzione di ridurre lo spreco energetico e migliorare l'innovazione allora la difesa ambiente per dirla in modo che non si addormenti nessuno è se col Green Deal do dei parametri molto alti perché le aziende possano continuare a produrre cioè metto l'asticella alta 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 qualche azienda non ce la fa ad arrivare a quei livelli e quindi fallisce e quindi chiude quelle quote di mercato sapete chi le prende? non è che le prende le aziende europee accanto l'azienda italiana, francese o tedesca le prendono i cinesi o gli indiani cinesi e indiani che hanno dei parametri ambientali molto più bassi e questo che cosa vuol dire? che loro i cinesi e gli indiani inquinano molto di più perché hanno dei parametri ambientali più bassi e si trasferiscono quote di mercato da loro sintesi grazie al Green Deal l'Europa è diventata più povera l'India e la Cina sono diventate più ricche e il pianeta è messo peggio di prima emissioni di CO2 nel 2022 l'Europa ha visto peggiorare la nostra dipendenza da alcune fonti diciamo mettiamola così noi non parleremo di emissioni le fonti che noi abbiamo avuto bisogno di prendere nel 2022 il carbone noi abbiamo aumentato nel 2022 la nostra dipendenza dal carbone che emette in modo molto più nocivo che il nucleare perché il nucleare è meglio del carbone allora su queste cose quello che io suggerisco ai ragazzi è meno ideologia e più tecnologia sì alla difesa dell'ambiente sì ma non così diritti civili io ho fatto la legge sulle unioni civili l'unico tutti gli altri bla 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 gli altri fanno i convegni io ho fatto la legge sulle unioni civili e ci metto dentro perché sono comunque i delitti civili il dopo di noi la legge sul terzo settore la legge contro lo spreco alimentare la legge sull'autismo la legge sulla cooperazione internazionale la legge contro il caporalato la mia esperienza di governo è un'esperienza di governo ricchissima di riforme sul tema dei diritti penso che sia sacrosanto lavorare per i diritti però occhio ragazzi io non vi liscio il pelo c'è bisogno anche dei doveri questo è un paese che non si salverà diceva Aldo Moro se accanto alla sacrosanta richiesta di diritti alla sacrosanta richiesta di diritti non corrisponderà un impegno sui doveri quindi giusto dire i diritti civili ma ci sono anche i doveri civili che anche voi devono andare a votare non soltanto andare a votare naturalmente andare a votare ma il dovere la logica del io pretendo è una logica sbagliata dopodiché è chiaro che noi dobbiamo difendere tutte le forme di diritti e anzi noi ci metterei qui per l'Europa stato di diritto basta con Viktor Orban che mette il veto e impedisce a tutti noi di fare le cose che potremmo fare con l'Europa ma nel frattempo utilizza il cittadino europeo come bancomat perché in Ungheria si porteria un sacco di soldi diritti civili insieme a diritti sociali e basta guarda io voglio molto bene Ellie così come voglio bene poi sono tutti ragazzi Ellie è diventata parlamentare europeo grazie al nostro 40% nel 2014 Meloni e Salvini sono davvero all'opposizione di entrambi ma sono comunque due persone con cui siamo cresciuti insieme perché lei è del 77 lui del 73 quindi è come se fossimo non dico compagni di classe ma di istituto quindi ho buoni rapporti davvero con tutti però non posso accettare l'idea che sul tema dei diritti la Schlein continua a utilizzarlo come una bandierina e non dica mai la parola doveri perché la parola doveri scommetto non l'ha detta o l'ha detta non l'ha detta che fortuna lavoro lavoro su questo sono totalmente in disaccordo rispetto alla Schlein ma anche rispetto a Salvini noi abbiamo fatto una legge che si chiama Jobs Act che è una legge che dice l'Italia è una Repubblica democratica articolo 1 fondata sul lavoro lo dico a Conte non sul reddito di cittadinanza fondata sul lavoro la legge che dice Repubblica democratica fondata sul lavoro vuol dire che dobbiamo dare possibilità di lavoro a tutte e a tutti in questo Jobs Act che adesso la CGL i 5 Stelle e il PD vorrebbero eliminare ma che Forza Italia Fratelli d'Italia che è Lega non volevano mettere quindi l'unico che voleva questo Jobs Act sono io questo Jobs Act ha permesso più di un milione di posti di lavoro superamento di una pratica vergognosa che si chiama dimissione in bianco cioè cosa vai tu sei una ragazza firmi un foglio di assunzione poi se rimani incinta viene licenziata ma questa vi sembra una cosa normale Jobs Act è una legge importantissima c'è un punto però ora fanno polemica sul Jobs Act cioè fanno il referendum contro le mie riforme dieci anni dopo perché tutti quelli che sono venuti dopo le riforme non le hanno fatte e quindi sono costretti a lamentarsi delle mie ma c'è una cosa che mi piacerebbe discutere soprattutto per chi magari vede la propria famiglia i ragazzi della scuola non lavorano giustamente ma vede i propri genitori che non ce la fanno arrivare alla fine del mese noi dobbiamo pagare di più il lavoro la gente non ce la fa più arrivare alla fine del mese perché c'è l'infrazione perché c'è il costo della benzina che è aumentato perché c'è piaccia o non piaccia il costo della spesa che è aumentato anche per dinamiche di politica estera gli uti nel golfo e tante altre sai cosa serve? due cose uno il salario di ingresso ti sei laureato sei uscito bene dall'università bene non puoi prendere 800 euro come primo stipendio in America prendi 80.000 dollari come primo stipendio due bisogna far sì che al ceto medio cioè la classe media chi sono? intanto i professori gli operai gli impiegati oggi se l'imprenditore decide di dare 5.000 euro di premio speciale alla fine dell'anno a ciascun lavoratore lui ci paga le tasse sopra l'imprenditore quindi anziché 5.000 gli arrivano 3.000 o 2.500 ma anche il lavoratore rischia di avere la sfiga che gli va nello scaglione successivo e quindi paga più tasse e quindi il guadagno si ha 0 allora qual è il mio ragionamento? il mio ragionamento è se io ti do dei soldi in più rispetto al tuo stipendio 0 tasse cioè 6.500 ti do 200 euro perché è andata bene ti do la quattordicesima se non la tredicesima ti do la partecipazione del lavoratore agli utili ti do quello che è lo straordinario 0 tasse con una soglia però cioè senza soglia ma perché la soglia? se tu prendi 1.500 e io ho un guadagno importante come imprenditore quest'anno mi è andata bene certo se l'imprenditore se li vuole mettere in tasca lo tasso fino all'ultimo centesimo ma se li vuol dare a uno che prende 1.300 euro e ha due figlie e non sa come fare a arrivare a fine mese vi posso garantire che se gli dai 1.000 euro altri 80 euro al mese o se gli dai 2.000 160 euro gli cambi la vita ecco perché è fondamentale che lo Stato smetta di tassare anche l'aria la differenza tra chi dice salario minimo così tutti bravi salario minimo ha pagato con le tasse e chi dice libertà alle lavoratrici ai lavoratori alle imprenditrici agli imprenditori è che io lo faccio senza aumento di tasse chi dice slogan populisti vi fa aumentare le tasse a quelli che dicono PD e 5 Stelle hanno fatto una proposta di legge per dare il salario minimo bravi ma la pagate voi all'articolo 7 troppo facile così troppo facile con la slot machine che tiri giù e vengono fuori nuove tasse basta tasse no tax migrazioni primo punto il problema principale di questo paese è l'emigrazione dei giovani quando vi dicono l'immigrazione che è un problema va gestito va affrontato stanno raccontandovi soltanto una parte del problema i ragazzi che se ne vanno dal sud verso il nord e verso l'estero sono la più grande ferita che ha questo paese anche perché banalmente se volete fare un conto della serva lo stato spende per voi studenti dalla scuola materna all'università per farvi studiare 220-250 mila euro tutti noi a singolo studente a singolo studente questi soldi se io prendo e me ne vado poi a lavorare in America e non torno più e non torno perché e non viene nessuno al posto mio perché tutti dicono tutti dicono la scuola la scuola forma bene rispetto alle altre scuole non è vero che è peggio non è vero che l'università è peggio poi si può discutere dell'organizzazione di alcune strutture faticenti ma se questi se ne vanno all'estero tu hai banalmente perso un pezzo di identità e di popolo ovviamente ma hai anche perso un po' di soldi allora il primo tema preoccupante è l'emigrazione sull'immigrazione ve la dico chiara ha legge e ordine la legge va rispettata che tu venga da Riccione da Rimini da Roma o da Firenze devi rispettare le regole la stessa cosa vale che tu venga dall'Angola dal Congo Brazzaville o dal Mozambico quindi per me io non ho paura a dire la parola legge e ordine Tony Blair leader della sinistra inglese ha vinto nel 1997 con questa espressione legge e ordine quindi sicurezza legge e ordine ma contemporaneamente non populismo alla Salvini Meloni che raccontano balle sui migranti perché nel 2023 la Meloni ha accolto lo stesso numero di migranti del 2015 solo che nel 2015 quando io ero al governo con 160.000 migranti arrivati Meloni strillava è un'invasione siamo alla sostituzione etnica nel 2023 con 160.000 migranti la Meloni ha detto stiamo gestendo il problema il numero è lo stesso 2000 hanno domini 2015 hanno domini 2023 allora la questione è davvero un problema irrisolvibile sì se vengono lasciate queste persone a gozzovigliare no se queste persone anziché metterle nei centri di rimpatrio in Albania dove vengono spesi 800 milioni di euro del cittadino italiano per fare uno spot pubblicitario alla Meloni se anziché fare questa spesa li metti nei centri per l'impiego e li fai lavorare e se lavorano sono bene accetti in questo paese se non lavorano vanno a casa questo è il meccanismo c'è anche un problema di distribuzione anche in Europa ovviamente certo ma il problema della distribuzione in Europa che è il grande tema del trattato di Dublino firmato nel 2003 da Berlusconi con la Bossi Fini è un problema che si può superare con una lunga trattativa politica alla quale si oppongono i paesi della destra quelli che stanno nel partito della Meloni peraltro ma al di là di questo il mio primo punto è sicurezza poi c'è un secondo punto di cui non parla nessuno che è cultura io ricordo che quando Salvini diventò vice premier con Conte fece una legge ci sono ancora i cartelli di Conte e Salvini con decreto Salvini Immigrazione dove la prima cosa era chiudere le scuole per insegnare l'italiano ai migranti geniali cioè tu hai bisogno che questi imparino l'italiano e stiano alle nostre regole e stiano dentro la vita sociale del paese e allora il grande investimento che va fatto va fatto in cultura in identità tu devi far sì che se tu vuoi stare in Italia devi apprezzare e rispettare le radici italiane così come se vuoi stare in Europa devi considerare le bellissime radici che ci sono in Europa noi domani saremo a Taormina al teatro greco l'origine greca la tradizione romana le radici giudaico e cristiane sono cose belle di cui non vergognarsi quindi immigrazione ci vuole legge e ordine e tanta cultura difesa comune è il grande tema dell'Unione Europea chi è che disse di no negli anni 50? Charles de Gaulle si dice che Alcide De Gasperi quando seppe del no della Francia alla difesa comune all'esercito europeo pianse lacrime amare perché? perché erano le lacrime di un uomo che aveva visto due guerre mondiali di un grande statista De Gasperi il più grande statista italiano presidente del consiglio nell'immediato dopo guerra secondo guerra mondiale difesa comune significa per me tre cose uno esercito europeo due tecnologie della difesa messe insieme a cominciare da Italia Francia e Germania che sono i paesi più forti dalla tecnologia legata al militare nasce internet dalla tecnologia legata al militare Israele fonda quella che viene chiamata Startup Nation quindi investire su questo per creare un hub di Startup in cui magari riuscire a coltivare un sistema di Venture Capital cos'è il Venture Capital? è la finanza per investire su un'idea se voi domani mattina con i vostri compagni di classe volete tirare fuori un'idea geniale sul futuro dovete andare in banca e in banca nessuno vi dà i soldi vi chiede le garanzie ma se avevate le garanzie non dovevate avere bisogno di qualcuno che vi finanziasse l'idea invece il meccanismo del Venture Capital è un signore mezzo pazzo che crede in tutti ti dai soldi e poi se gli va bene si riprende e se no pace ha perso un po' di soldi terzo punto della difesa comune è la diplomazia e la politica estera questa è una cosa cruciale ragazzi se noi vogliamo davvero costruire la pace è vero come dicevano i latini dobbiamo preparare la guerra si vis pacem parabellum ma al di là di questo dobbiamo anche creare le condizioni della politica e quindi la diplomazia allora qui ci sono i due estremi ci sono quelli che dicono munizioni 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 e basta l'Europa è le munizioni folli non è la posizione muscolare che cambia il mondo ma poi ci sono quelli che dicono peace and love fate la pace Conte ha fatto un programma elettorale che sembra Miss Italia voglio la pace nel mondo dimmi uno che non vuole la pace nel mondo il punto è creare le condizioni quindi la proposta è sia militari cioè sia quindi formazioni militari sia la diplomazia quindi aumento di spesa militare sì certo perché l'aumento di spesa militare costituisce un investimento in ricerca e sviluppo non pensate che l'aumento di spesa militare aiuti il paese a investire nel sociale come dice qualcuno nel sociale io ho fatto la riforma nel terzo settore bisogna investire a prescindere ma il militare ti crea le condizioni per investire in nuove tecnologie e le nuove tecnologie senza la ricerca militare non ci sarebbe mai stato internet non ci sarebbe mai stato l'iPhone non ci sarebbe mai stato il GPS o il satellitare che ti permette di non perderti come i tempi di Nord-Sud-Ovest-Test del 93 allora adesso le mettiamo in ordine rispetto a quelle che secondo te potrebbero essere le priorità degli studenti 1 2 3 4 e 5 ma io su questa roba non sono d'accordo ok quindi adesso ti facciamo una foto perché poi vedremo chi si è avvicinato di più adesso andiamo a un gioco che sicuramente ti divertirà e che ti permetterà come dire conosci meme? meme come noi? meme fai meme? no non mi riesci perché non sono così bravo e oggi invece dovrai provare queste sono le frasi e qui ci sono foto guarda la prima casualmente sei te vediamo la tecnica se sceglie prima la frase se sceglie prima la base meme non ci ripensi a un'altra discussione sei anni fa allora Matteo Renzi quando a scuola chiedevi alla prof di inglese di andare al bagno e lei rispondeva in english please e questa è la mia quando tua mamma è al telefono con un parente e ti dice sì è qui ora te lo passo e questa è la Meloni la numero due quando organizzi una vacanza con gli amici ma come budget avete 5 euro a testa avete sempre il capovillaggio che vi può aiutare ed è la terza dice lì tu cosa che ti piace di più vabbè metto la mia con la faccia dello scisce fai la foto con quella però vai andiamo ragazzi allora adesso abbiamo il gioco più complicato di tutti l'ok boomer domande di cultura giovanile non la so ragazzi non ne so una posso dire una cosa in difesa del nostro ospite di oggi ho letto le domande che sono difficili non so neanche io le risposte la colpa è di Zacca ho capito ma c'ho tre figli di 23, 21, 18 te possino Zacca cos'è un easter egg un insta un easter egg quella dopo è una cosa goliardica una cosa che ti nascondono agli sviluppatori nei videogiochi Dustin Henderson se ti dico Dustin Henderson tu sai chi è da cacene di vedere la foto come suggerimento e basta senza la risposta vai vai ho copiato uno dei protagonisti di Strangers ma solo perché l'ho copiato thanks San Giovanni il nome del cantante San Giovanni sì c'era tre o quattro come si chiama è facile San Giovanni non volano farfalle è la sala canzone Giovanni Giovanni questa è la più facile ultima triggerare triggerare significa innesco stimolo e deriva dall'inglese trigger che significa appunto grilletto si usa per indicare qualcosa che provoca una reazione emotiva forte o negativa in una persona come paura, rabbia, tristezza o ansia esempio mi sono triggerato subito quando ho commentato le mie nove sned ascolta Matteo ma non poteri domandarmi il futuro dell'economia globale ultimo gioco ci mando un vocale dovessimo andare un vocale alla generazione Z qualsiasi cosa partito via sulle elezioni dico votate per qualcuno che ha a cuore l'Europa magari anche se non conosce puntualmente tutte le cose della generazione Z e viva sulla vostra vita vi auguro di saper sognare io ho fatto il presidente del consiglio partendo da niente continuo a sognare quotidianamente ma se io ho fatto il presidente del consiglio significa che ciascuno di voi può realizzare i sogni più belli e secondo me questa è una cosa che è straordinaria in un mondo in cui tutti dicono che l'ascensore sociale si è rotto no non è vero voi potete farcela credeteci non mollate non lasciate il futuro ai cinici e ai delusi terzo e ultimo punto potrà succedere talvolta di battere a Firenze si dice delle boccate delle botte in terra lì per lì fa male da morire ma è il momento più bello lo dico io sono stato per un periodo forse diciamo così uno degli uomini più virgolette potenti d'Italia nel giro di qualche mese ho perso tutto il mio potere ed è fantastico perché quando sei potente tutti ti adulano stavo per dire una cosa un po' più volgare avete capito quando poi hai perso il potere sei solo con te stesso e quei momenti sono momenti fantastici magnifici dici ma fa male sì ma sono i momenti in cui ti riscopri persona vera ecco io vi auguro di fare scelte sagge alle lezioni di inseguire i vostri sogni ma anche di provare a vivere i momenti di difficoltà che verranno sapendo che sono i momenti più belli perché quando sei solo con te stesso è il momento in cui se riparti sei più forte di tutti noi ti ringraziamo davvero tanto che sei stato con noi grazie a voi simbolo per le sue tanto tu diciamo appunto sei candidato quindi chi vuole dare la preferenza che circoscrizione sei candidato? tutto verrà nel nord est quindi mi può votare da Milano a Napoli da Palermo a Firenze ma la cosa bella è anche se passa qua anche se non votate me cioè dovrei dire votate me anche perché sono l'unico che ci va però anche se non volete votare me anche se vi sto sulle balle votate questo simbolo perché è l'unico simbolo che parla del vostro futuro grazie mille a voi grazie ragazzi ciao con noi e alla prossima ciao